Malo, 43 anni, allontanato da casa dai carabinieri e deferito l'autorità giudiziaria per minacce alla consorte. I militari sono intervenuti in due occasioni per sedare le liti violenti tra i due coniugi sequestrando all'uomo un coltello da cucina con cui minacciava la moglie. La donna, esasperata, ha denunciato l'uomo consentendo così il suo allontanamento.